Oggi parliamo qualcosa di vecchio, qualcosa di molto vecchio, qualcosa che è successo 80 anni fa addirittura e cioè la Seconda Guerra Mondiale perché quando si parla di Europa inevitabilmente non si fa altro che parlare di Seconda Guerra Mondiale e di tutto ciò che è successo nel dopoguerra Perché ad esempio non citare Churchill? Esiste un rimedio che potrebbe trasformare l'intera scena e rendere in pochi anni tutta l'Europa libera e felice Esso consiste nella ricostruzione della famiglia dei popoli europei o in quanto più essa possiamo ricostruire e nel dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza e in libertà Dobbiamo creare una specie di Stati Uniti d'Europa E come Churchill ci sarebbero tanti altri pensatori che hanno ideato l'Europa e sono stati dei veri e propri fondatori dell'Unione Europea E ad esempio Spinelli Però purtroppo questo canale non si chiama Whatsapp Story Quindi non andremo ad analizzare ogni step che ha poi scaturito l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea Bensì ci fermeremo alla storia di Mario Draghi e della Banca Centrale Europea Però parlando di Banca Centrale Europea anche qui parliamo di qualcosa di vecchio, di antico qualcosa che è successo anche prima della Seconda Guerra Mondiale Perché quando parliamo di Banca Centrale Europea non facciamo altro che parlare anche di Bundesbank Perché molta della filosofia della Banca Centrale Europea è stata presa proprio dalla Banca Centrale tedesca che ha radici molto profonde La Bundesbank è stata fondata nel 1957 ma fondamentalmente le sue radici sono molto più antiche e stiamo parlando soprattutto della Repubblica di Weimar La Repubblica di Weimar che è stata resa famosa per la sua inflazione galoppante e che i suoi cittadini andavano a comprare pezzi di pane con cariole piene di banconote Questi eventi hanno segnato per sempre la mentalità tedesca che da lì in poi non ha mai accettato tassi di inflazione elevati che anzi se ne è guardata bene da raggiungerli Quindi la Bundesbank con la sua filosofia di politica monetaria molto accorta e attenta all'inflazione ha sicuramente influito sulla stesura delle norme che influenzano la Banca Centrale Europea Però le caratteristiche della Banca Centrale Europea sono state influenzate anche da un secondo evento storico e cioè gli shock petroliferi degli anni 70 e degli anni 80 Infatti in questi anni c'è stato appunto uno shock del mercato del petrolio dove appunto da un anno all'altro i prezzi del petrolio sono schizzati enormemente In questi periodi molti stati europei e non hanno vissuto dei forti incrementi della crescita dei prezzi cioè dell'inflazione e da lì in poi si è capito che avere una banca centrale indipendente è fondamentale per una crescita di lungo periodo di un paese Infatti si può notare come dagli anni 70 in poi le banche centrali più importanti del mondo siano state direse sempre più indipendenti dal governo e dalle pressioni politiche proprio perché si era capita l'importanza fondamentale di una banca centrale indipendente rispetto alla politica Lo so, questo è un tema molto caro ai sovranisti che non sono assolutamente d'accordo con questa idea Purtroppo però questo video non vuole trattare questo tema e non lo tratterà e quindi diciamo che vi dovete in un certo senso fidare delle mie parole e di quello che dico e cioè che tutti gli economisti e tutta la comunità scientifica ed economica sono concordi sul fatto che è fondamentale avere una banca centrale indipendente dal governo Però su questo argomento magari lo vedremo successivamente in un altro video in maniera approfondita Però lo so, lo so, non vi bastano le mie parole e allora andiamo a mostrarvi un ultimo grafico e poi andiamo avanti per i nostri discorsi su Mario Draghi e la banca centrale europea Questo grafico mostra una correlazione abbastanza netta tra grado di indipendenza della banca centrale e il tasso di inflazione subito all'interno del paese e dove si può vedere appunto che più una banca centrale è dipendente dal governo e più il paese soffre di tasse di inflazioni superiori Però ripeto, questo non è l'argomento di questo video e quindi fidatevi che sia così e ve lo dice anche un grafico che vi metto tutte le fonti in descrizione Ora passiamo avanti e parliamo di Mario Draghi come presidente della banca centrale europea Mario Draghi entra in carico come presidente della banca centrale europea nel 2011 e il suo predecessore è Jean-Claude Trichet che è stato anche lui presidente della banca centrale europea dal 2013 al 2011 quindi diciamo che si è preso in faccia la crisi economica del 2008 che è iniziata dagli Stati Uniti però poi si è dilagata in tutto il mondo e anche in Europa Jean-Claude Trichet che è stato molto criticato soprattutto negli suoi ultimi anni da presidente della banca centrale europea e soprattutto dopo la crisi del 2008 per la sua politica monetaria non troppo cauta quando infatti appena ha visto un minimo di ripresa all'interno dell'eurozona ha subito alzato i tassi di interesse quando in realtà forse quella scelta non è stata una delle migliori potrebbe essere molto più attendista e magari far continuare una politica monetaria un po' più espansiva senza alzare subito i tassi di interesse quindi Draghi entra in carica con una situazione abbastanza problematica abbiamo un eurozona che è appena uscita dalla seconda crisi economica più importante dopo quella del 29 abbiamo appunto dei tassi di interesse quindi una politica monetaria non troppo espansiva che quindi stava un po' riducendo le possibilità di crescita economica abbiamo anche un'unione europea divisa tra stati del nord e stati del sud ognuno con le proprie problematiche e soprattutto con quelli del sud molto più in difficoltà rispetto ai primi derivanti sia da una crescita economica durante tutto il primo decennio dell'euro 2000 più bassa rispetto a quelli dei paesi del nord e anche con un problema di debito pubblico che poi andrà ad affrontare Mario Draghi soprattutto dal 2012 al 2015 e soprattutto abbiamo nel 2011 una Grecia quasi al collasso con una crisi economica devastante dei conti pubblici truccati e la troica che stava per intervenire per salvare la Grecia e forse è proprio grazie alla troica Sedraghi riesce a diventare il presidente della banca centrale europea troica è una parola russa che significa terzetto e nella storia dell'unione europea significa l'intervento della commissione europea del fondo monetario internazionale e della banca centrale europea e che sono andati questi tre organismi ad aiutare le condizioni disastrose della Grecia ed è proprio a causa di questa intromissione della banca centrale europea per salvare uno stato se Alex Weber e cioè nel 2011 il presidente della banca centrale della Germania, della Bundesbank che si è dimesso dalla propria carica e quindi andando a rinunciare alla carica di presidente della commissione della banca centrale europea Alex Weber che era uno tra i più favoriti per assumere questo ruolo non era assolutamente d'accordo sull'intromissione della banca centrale europea all'interno della politica fiscale della Grecia e di tutta la situazione greca proprio perché abbiamo visto per quanto riguarda la Germania c'è una grande corrente economica di politica monetaria non interventista che non deve assolutamente mischiarsi con la politica fiscale così una volta uscito il grande favorito cioè Alex Weber della presidenza della banca centrale europea Mario Draghi ha preso molte chance da lì in poi affinché diventasse il presidente della banca centrale europea e poi alla fine lo è diventato i punti di forza che hanno consentito a Mario Draghi di diventare presidente della banca centrale europea sono stati quelli di una grande conoscenza del mondo finanziario è stato un uomo delle istituzioni per molto tempo acquisito durante tutti gli anni del suo lavoro di una grande riconoscenza e di grande fiducia nelle sue competenze e quindi è riuscito ad ottenere questo ruolo però in questa corsa per la presidenza della banca centrale europea Draghi ha avuto anche abbastanza problemi soprattutto dai paesi del nord e in particolare della Germania proprio perché i funzionari tedeschi pensavano che la nazionalità di Mario Draghi cioè quella italiana, potesse influire sull'operato futuro della banca centrale europea questi pregiudizi dei tedeschi sono dovuti alla storia economica dell'Italia dagli anni 70 in poi proprio perché i governi italiani, in particolare degli anni 70 e 80 hanno fatto uso enormemente della politica monetaria e quindi della monetizzazione del debito per poter portare avanti le proprie politiche economiche però per fortuna Mario Draghi aveva con sé una grande fiducia da parte di Merkel che appunto Draghi riuscì a convincere la Merkel che lui era l'uomo giusto e quindi Mario Draghi diventò presidente della banca centrale europea in questo video però non voglio analizzare tutti gli otto anni di Mario Draghi all'interno della banca centrale europea in modo dettagliato magari anno per anno questo forse sarà un compito per il Giorgio del futuro in questo video invece vorrei analizzare quanto il compito eseguito da Mario Draghi sia stato difficile e complicato innanzitutto partiamo da una premessa abbiamo parlato di una banca centrale che ha origini storiche ed economiche antiche il problema è che nella realtà l'applicazione della banca centrale interno e dell'economia è molto giovane parliamo del 1998 e solo 10 anni più tardi ha dovuto controllare e gestire una delle crisi economiche più grandi che la storia abbia mai conosciuto quindi immaginiamo quanto sia stato difficile per la banca centrale europea affrontare un problema del genere senza un dataset sufficiente senza aver sperimentato determinati strumenti economici o meno e tutto il resto è fondamentale avere una storia dietro di applicazione di politica monetaria cosa che la banca centrale europea non aveva essendo così giovane e infatti una delle grandi sfide di Mario Draghi è stata quella di inventare o adattare delle politiche monetarie che erano conosciute all'interno della comunità scientifica ma che non erano mai state applicate all'interno dell'eurozona tramite la banca centrale europea e quindi praticamente era un foglio bianco dove cercare, testare, provare, sperimentare all'interno dell'eurozona e vedere cosa funzionava e cosa no senza alcun esperimento alle spalle senza nessuna prova alle spalle che ti poteva indirizzare su quale scelta sarebbe stata la migliore o la peggiore quindi uno dei grandi compiti e anche uno dei grandi meriti che gli è stato concesso a Draghi è stato proprio quello di innovare gli strumenti della banca centrale europea andando appunto ad ampliare la cosiddetta cassetta degli attrezzi e della politica monetaria della banca centrale europea andando anche a utilizzare soluzioni non convenzionali e quindi molto rischiose e molto pericolose un'altra sfida di Mario Daghi è stata quella di avere a che fare con un'eurozona spaccata divisa in due paesi del nord contro paesi del sud paesi del sud che soffrivano e soffrono tuttora forse anche se forse l'unica rimasta con questi problemi è l'Italia con tassi di crescita non elevati e anche con dei problemi di debito pubblico mentre tutto l'opposto i paesi del nord con un basso debito pubblico e dei livelli di crescita anche abbastanza sostenuti e quindi era praticamente un tira e molla tra questi paesi dove appunto Mario Draghi si è posto in mezzo e secondo me anche in maniera abbastanza ben fatta cioè senza andare troppo da una parte, sbilanciarsi da una parte o dall'altra e sempre cercando di tenere in tensione le redini di entrambi gli schieramenti infatti è famosa questa divisione la si può descrivere come falchi e colombe i falchi che stanno per i paesi del nord mentre le colombe i paesi del sud dove i falchi cercavano, chiedevano, pretendevano una politica monetaria restrittiva o comunque abbastanza attenta proprio perché sappiamo per i motivi storici ed economici del passato mentre i paesi del sud come la Spagna, la Grecia, l'Italia, il Portogallo richiedeva, o anche la Francia molto spesso richiedevano delle politiche monetarie espansive o accomodante quindi Mario Draghi ha dovuto sempre avere a che fare con queste due fazioni a confronto che cercavano di chiedere sempre qualcosa per come torna conto, personale avendo a che fare con due fazioni contrapposte e molto agguerrite il campo d'azione di Mario Draghi è stato sempre molto ristretto è stato veramente eccezionale nel interpretare questo ruolo cercando sempre di non andare al di fuori del seminato o comunque del campo appunto segnato da queste due fazioni addirittura è stato processato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che poi alla fine lo ha dichiarato incolpevole e questa accusa è stata fatta partire dalla Germania perché diceva che affermava, pensava che il quantità di vising fosse illegale perché sarebbe un intervento diretto ad aiutare ogni singolo Stato quando sappiamo che la Banca Centrale Europea in realtà è indipendente dai singoli Stati quindi vediamo tutta la sua bravura nel cercare di spingersi sempre oltre cercare sempre nuovi strumenti in sostegno all'Unione Europea e alla sua economia ma sempre rispettando la legalità di questi strumenti e l'indipendenza della sua carica come da statuto sempre parlando del Mario Draghi l'uomo di mezzo tra le due fazioni è stato molto bravo a concedere sì una politica monetaria espansiva cosa molto favorevole per le Colombe o i paesi del Sud però ha sempre dichiarato durante tutte le sue interviste che la politica monetaria non può essere l'unico strumento per far risollevare l'economia europea e questo è un argomento molto caro ai paesi del Nord infatti ha sempre spinto i governi soprattutto del Sud dell'Eurozona a implementare politiche fiscali e politiche strutturali che facessero ripartire l'economia di ogni singolo paese e ha sempre dichiarato che la politica monetaria poteva semplicemente acquistare tempo e non risolvere una situazione europea e lo stiamo vedendo anche tuttora dopo quattro anni di quantitative easing e interessi negativi e dopo comunque una politica monetaria quasi per tutti gli otto anni di Mario Draghi abbastanza accomodante stiamo comunque soffrendo dei problemi economici abbastanza gravi che provengono sia da esterni comunque dai dazi eccetera eccetera ma sappiamo benissimo tutta la comunità scientifica economica sa benissimo quanto la politica monetaria non può risolvere dei problemi strutturali che sono proprio i problemi caratteristici dei paesi del Sud e su questo Mario Draghi è stato sempre abbastanza chiaro e cioè che bisogna intervenire con politiche fiscali e politiche strutturali per far ricrescere in modo solido e stabile l'Unione Europea e l'Eurozona appunto come abbiamo detto questa politica monetaria così espansiva concede tempo ai paesi e i politici che governano in questi paesi approfittano di questo tempo in più gratuito comunque favorevole per propri tornaconti personali e non per cercare di dare al paese una nuova spinta una nuova spinta economica con delle riforme strutturali che servono veramente alla crescita bensì come abbiamo visto pensano a tenere contento l'elettore con mancette eccetera eccetera cose che appunto influiscono minimamente alla crescita solida e prolungata di un paese e quindi diciamo che c'è questo contrasto interno che non è comunque colpa di Draghi perché ovviamente il suo lavoro è quello in prima battuta di controllare l'inflazione però sì diciamo che questa politica monetaria così espansiva fa semplicemente ritardare l'introduzione di politiche strutturali che servirebbero alla crescita di un paese e lo stiamo vedendo tutti i giorni fondamentalmente abbiamo parlato di bravure di Mario Draghi di inventare nuovi strumenti da parte della banca centrale che dopo questi otto anni si ritrova molto più rinforzata e con molti più strumenti a sua disposizione rispetto a otto anni prima e tra questi strumenti possiamo parlare del famosissimo quantitative easing che è uno strumento economico ben conosciuto da tutti è stato anche applicato in maniera molto più celera ad esempio dagli Stati Uniti all'interno della crisi del 2008 proprio come abbiamo detto la banca centrale europea essendo così giovane e non avendo così tanta esperienza è stata molto più difficile introdurre un determinato strumento così innovativo all'interno della propria eurozona rispetto alla Federal Reserve che appena è entrata la crisi ha subito emanato lo strumento del quantitative easing oltre a questo possiamo parlare del TLTRO di tanti strumenti messi in campo da Mario Draghi appunto dai più note ai meno noti alcuni hanno funzionato, alcuni meno però probabilmente uno degli strumenti più innovativi forse anche più banali che ha introdotto Mario Draghi è stato lo strumento dell'annuncio, della parola, del linguaggio che fondamentalmente ha salvato l'euro basti ricordare il whatever it takes di Mario Draghi beh in quel contesto è stato il semplice annuncio a salvare l'Unione Europea proprio perché i mercati si fidavano di Mario Draghi e di quello che diceva e ogni sua parola era messa al posto giusto ed era utilizzata in maniera eccelsa e quindi questo nuovo strumento di politica monetaria cioè quello dell'annuncio, della parola, del linguaggio è entrato a far parte degli strumenti della politica monetaria della Banca Centrale Europea ed è stato fino ad adesso uno strumento enorme e anche molto efficace strumento però che non bisogna banalizzare o comunque sperare che sia utile in qualsiasi situazione infatti basti pensare ad esempio anche all'interno del famoso discorso del whatever it takes prima di queste tre parole Mario Draghi fece una premessa molto importante che molti non capirono o magari erano molto distratti in quel momento Nell'ambito del nostro mandato e qui ci rifacciamo a quello che abbiamo detto prima e cioè sulla accortezza di Mario Draghi di non andare oltre quello che il suo mandato gli concede e quindi magari ad esempio in questa occasione è stato molto più altisonante il whatever it takes che all'interno del mio mandato che appunto fissava dei paletti precisi che non sarebbero andati oltre addirittura ad esempio alcuni che avrebbero ipotizzato che la Banca Centrale Europea avrebbe finanziato in modo incondizionato i debiti pubblici di ogni singolo Stato cosa che non è mai successa in realtà e ce lo può testimoniare anche la corte dei conti la corte di giustizia dell'Unione Europea di nuovo però dobbiamo stare attenti a non pensare che questo strumento del linguaggio della dichiarazione sia appunto una bacchetta magica perché basti pensare che qualche giorno prima del famoso whatever it takes un'intervista in un giornale Le Monde di francese ha proprio dichiarato che l'euro è irrevocabile però in quella situazione, in quel contesto quelle parole non hanno funzionato per i mercati finanziari mentre nella conferenza inglese dove nessuno si aspettava un'uscita così forte di Mario Draghi beh cacciò quelle famosissime tre parole che fondamentalmente salvarono l'Unione Europea e l'euro ecco forse nell'ultimo anno di mandato si è lasciato un po' andare per quanto riguarda la politica monetaria però questa è una mia personalissima opinione però anche qui questa critica di una politica monetaria troppo lassiva è sempre comunque contestabile perché alla fine il mandato di Mario Draghi è quello di raggiungere nel medio periodo un'inflazione a poco sotto il 2% cosa che attualmente non sta avvenendo quindi diciamo che è comunque giustificabile le sue operazioni per poter raggiungere appunto quell'obiettivo lì però appunto sì questa cosa potrebbe essere contestabile però è bene comunque ricordare quello che abbiamo detto prima cioè che tutte le operazioni svolte da Mario Draghi sono state sempre ben pensate e ben organizzate in modo tale che fossero comunque legittime all'interno del suo mandato ci sarebbe tanto da parlare di Mario Draghi e magari lo faremo sicuramente in futuro in maniera più approfondita andando a prendere degli argomenti più specifici in questo video ho fatto uno sguardo generale su tutti gli otto anni e sulle sfide che ha dovuto affrontare Mario Draghi ovviamente la sua presidenza è stata più che positiva e tutte le critiche alcune più giustificabili alcune meno si sono comunque sempre dovute scontrare con il mandato di Mario Draghi che è stato sempre interpretato appunto da Mario Draghi stesso in maniera eccelsa e sempre rispettando i limiti appunto concessi al presidente della Banca Centrale Europea per approfondire questi argomenti ho utilizzato due libri oltre alle mie conoscenze economiche ovviamente che sarebbero l'artefice questo libro qui è Draghi Falchi e Colombe abbiamo già parlato di Falchi e Colombe questo è edito da il sole 24 ore lo trovate solo in forma ebook su Amazon questo lo trovate in tutte le librerie anche su Amazon e se volete comprarli tramite i miei codici su Amazon io riceverò una piccola percentuale che aiuta il canale sicuramente a crescere se non potete comprare tutti e due quale potete comprare io forse vi consiglierei questo però sono comunque complementari perché questo libro è fatto da due economisti diciamo che approccia la tematica di Mario Draghi all'interno della Banca Centrale Europea in maniera un po' più tecnica e anche e soprattutto in maniera cronologica andando a vedere tutte le azioni di Mario Draghi in maniera cronologica e appunto un po' più tecnica mentre questo è un libro scritto da due giornalisti e quindi possiamo benissimo capire che è un po' più facile da leggere non ci sono molti tecnicismi è più discorsivo all'interno di questo libro ci sono anche alcuni anediti come ad esempio Draghi che è andato a scuola, al liceo insieme a Montezemolo l'ex presidente della Ferrari e anche insieme a Giancarlo Magalli è più discorsivo forse è più facile da leggere però diciamo che sono abbastanza complementari quindi se ne avete l'occasione se avete disponibilità economica e anche tempo per leggerli entrambi sicuramente ve li consiglio entrambi altrimenti forse vi manderei più su questo se volete qualcosa di più giornalistico e più diciamo scorrevole mentre se volete qualcosa di più tecnico questo qui e niente per oggi è tutto spero di avervi dato così qualche informazione utile e ci vediamo al prossimo video qui su Whatsapp Economy sperando di essere un po' più costante purtroppo il periodo non è estremamente favorevole per produrre video però magari questo ve ne parlerò in una live eh? per adesso ciao 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 Grazie a tutti.